Allora, Emanuele, cosa rispondi a queste belle parole del nostro sindaco? Ma io non ho parole per ringraziare il nostro affascinante, oltretutto, sindaco. Però, certamente, io la sola mi leto, non reggo da più alcuna parte. Le mie parole non dicono più niente. I miei pensieri succio nel sangue e le immagini. Il mio dramma non ha più luogo. Dietro di me ho raffrontato l'ornamento. Da gente vuoi il mio dramma non interessa. Per gente, poi, non ha niente da dire. Neanche a me interessa più. Non sto più al giorno. Ringrazio il sindaco e tutte le cittadinanze li dà e gli amici in giro per il mondo. Va benissimo. Grazie a voi, buona giornata e complimenti ancora. Grazie.